Giornata di vigilia in casa Taranto, in vista del match interno contro il Palermo, programmato sabato allo Iacovone alle ore 17.30. Nel pomeriggio odierno spazio la rifinitura, step fondamentale per la terza per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Sarà ancora 4-3-3 rispetto a Campobasso, tuttavia scalpitano sia Riccardi che Belloc, i quali, al momento, sembrano leggermente in vantaggio rispetto a Zullo e Longo, entrambi non al top della forma fisica. Tanta la curiosità intorno al nuovo arrivato Mario Pacilli, le qualità dell'ex casertana sono indiscutibili, ma è improbabile che la terza lo lanci nella mischia si dà in primo minuto, considerando che gli manca il ritmo partita. Il tridente offensivo, perciò, potrebbe essere ancora formato da Saraniti al centro, ex di turno alla ricerca del suo primo gol in rosso-blu, Giovinco sulla destra e Versienti sulla sinistra. Intanto, sul fronte spettatori, è tanta l'attesa della città per una sfida che si ripresenta a distanza di quasi 30 anni. Già esaurito il settore di Curva Nord, quasi 3.000 italiani già staccati. Non si esclude che, in base alla capienza consentita, non si sfiori il sold-out.